Ciao ragazzi, Juventus e Roma pareggiano 1-1, ma Allegri in questa partita ha studiato e messo in campo una strategia di gara perfetta per mettere in difficoltà gli avversari e oggi andremo ad analizzare l'incontro. Innanzitutto gli expected goals parlano di una partita piuttosto equilibrata dal punto di vista delle occasioni, così come i tiri in porta e gli angoli, mentre i bianconeri hanno avuto una percentuale maggiore di possesso palla. La squadra di Allegri si è schierata inizialmente con il 4-3-3, che poi durante il secondo tempo è variato in un 4-4-2, ma lo vedremo meglio dopo, mentre la Roma di Mourinho ha scelto il classico 3-4-3, che anche qua nel secondo tempo è variato in un 4-2-3-1. Partiamo dalla fase di possesso della Juventus e di non possesso della Roma, fase di gioco in cui Allegri è riuscito a fare la differenza con la sua strategia di gara, riuscendo a mantenere la superiorità in costruzione e quindi anche il dominio del gioco. La prima particolarità del 4-3-3 della Juventus è l'abbassamento di Rabiot vicino a Locatelli, mentre Miretti è andato ad agire quasi da trequartista fra le linee, quindi trasformandosi in una sorta di 4-2-3-1. La Roma invece con un atteggiamento conservativo ha scelto di utilizzare i tre giocatori offensivi per gestire i quattro difensori avversari più quelli che sono diventati due centrocampisti. Quindi lo spazio per la Juventus si andava a creare in zona esterna, dove infatti Alexandro soprattutto ha ricevuto molti palloni. La Juventus ha cercato di giocare maggiormente a sinistra, perché ad uscire sul numero 12 giuventino è il centrocampista, Cristante, mentre il quinto di centrocampo, Karsdorp, è costretto a rimanere più arretrato su Costice. E dunque si viene a creare uno spazio fra le linee proprio per Miretti, che è andato a giocare in quella posizione. E per capirci meglio sugli spazi che si vengono a creare nelle zone di campo vediamo anche la lavagna tattica, dove Locatelli e Rabiot vanno ad agire da due centrocampisti davanti alla difesa. Di Bale e Pellegrini si preoccupano di loro due, mentre Abram è impegnato a muoversi fra Bremer e Danilo, quindi gli spazi che si creano sono proprio quelli su Alexandro e De Sciglio. Sul numero 2 della Juventus, Spinazzola è più aggressivo e spesso da quella parte è lui ad andare ad accorciare su De Sciglio e ad arrivarci con buoni tempi di pressione. Mentre sulla sinistra, visto che Karsdorp rimane conservativo su Costice, è Cristante ad uscire. E quindi proprio alle sue spalle si va a creare lo spazio che viene occupato da Miretti. Mancini non è così aggressivo e quindi questo passaggio da Alexandro a Miretti è una soluzione importante studiata da Allegri che ha portato benefici e possibilità di avere palleggio e sviluppare l'azione. A testimonianza di quanto detto, i giocatori con maggior numero di palle giocate sono proprio Alexandro e De Sciglio, rispettivamente con 86 e 79. Mentre il giocatore con il maggior indice di verticalità, che sarebbe il numero di giocatori medi superati da un passaggio verticale, è Quadrado con 3.67. Quindi spesso questa tendenza della Juve ad andare in zona esterna per poi trovare gli esterni alti conseguiva un'altra giocata verticale, in particolare di Quadrado. Ma anche Costice è stato uno dei migliori in questo senso. Un'ulteriore tendenza di questa partita è stata proprio quella di accentrare Quadrado, che ha ricevuto molti palloni e poi ha verticalizzato come abbiamo appena detto. Ma soprattutto si è andato a posizionare alle spalle di Pellegrini, proprio per fornire una linea di passaggio e difficilmente poteva essere seguito dal difensore della Roma. E proprio questo concetto lo ha espresso anche lo stesso Allegri in conferenza stampa post partita. Poi dove è stato bravo anche Quadrado al primo tempo, perché quando c'era la possibilità stava esterno, ma veniva a giocare dietro le spalle di Pellegrini. E quindi lì trovavamo ancora un pochino più di spazio. Eravamo praticamente, l'ho detto, di creare un quadrato a metà campo per cercare di avere un pochino più di traiettoria di passaggio. In quella situazione io uscivo al centrale di difesa, altrimenti avevo un palleggio. Nel primo tempo la Roma è stata molto in difficoltà a livello di pressione e anche quando i giocatori offensivi provavano a pareggiare i due difensori centrali, allora con la mossa di abbassare Rabiot-Allegri riusciva comunque ad avere una superiorità anche al centro del campo. E qua poi, appunto, con un solo passaggio verticale la Juventus riesce ad essere quasi in parità numerica anche nella metà campo avversaria, considerando che i quinti di centrocampo giallorossi erano già molto avanzati. Infatti, semplicemente se Pellegrini si alza su Danilo, allora lascia libero Rabiot e se i due centrocampisti, Cristante e Matic, non seguono questa pressione, il francese ha molto spazio per controllare e attaccare la porta avversaria. Ancora una grafica per testimoniare quanto detto fino ad ora, queste sono le posizioni medie in possesso palla della Juventus nel primo tempo, dove evidentemente c'è il numero 25, Rabiot, vicino a Locatelli davanti ai due difensori centrali, mentre Miretti è molto più avanzato proprio perché è andato ad agire nello spazio fra le linee della Roma. Questo 4 contro 3 centrale, oltre che a permettere un palleggio semplice alla Juventus, concedeva spazio in zona esterna come abbiamo visto fino ad ora, ma è ancora più efficace a seguito della ricerca di un'ampiezza. Quindi se il pallone va a destra da Descio che viene attaccato da Spinazzola, ma comunque costringe la Roma a spostarsi sul lato palla anche con i due centrocampisti, se si trova un'ampiezza veloce dalla parte opposta con Alexandro, allora si ha una superiorità numerica contro Karsdorp con appunto Alexandro e Kostic, in quanto Cristante è troppo lontano dal numero 12. Allegri ha parlato anche di questo tema nel post partita. Soprattutto fino a che non hanno pareggiato, avevamo la possibilità dell'uomo in più dalla parte sinistra, giocando a destra e sviluppando a sinistra, perché comunque loro erano un pochino più coperte a destra loro e abbiamo sfruttato un pochino meno però. Passiamo ora alla fase di possesso della Roma e di non possesso della Juventus. I giallorossi costruiscono con il classico 3 più 2, dove però i bianconeri sono molto aggressivi, spesso vanno al 3 contro 3 con Kostic, Vlaovic e Quadrado sui difensori e le due mezzali, Miretti e Rabiot sui due centrocampisti centrali. E questa pressione aggressiva è permessa anche dall'aggressività degli esterni bassi, Alexandro su Karsdorp e dei difensori centrali sui giocatori offensivi della Roma, qua Danilo su Dybala. Dall'altra parte succede la stessa cosa con De Sciglio che arriva su Spinazzola e poi Bremer che va a contrasto su Abram. Infatti la Juventus ha recuperato 77 palloni, 20 dei quali in zona alta e individualmente i giocatori con più recuperi sono stati Bremer con 16, Danilo Ibanez con 14, poi Smalling e Locatelli. Ed il gol della Juventus è nato proprio da una pressione aggressiva nei primissimi secondi della partita, dove De Sciglio è arrivato su Spinazzola, Quadrado era sul difensore laterale e Locatelli su un centrocampista. Il pallone di Spinazzola viene sporcato proprio dal numero 2 della Juventus, quindi Miretti può controllare il pallone e giocare per Quadrado, che guadagna la pulizione che poi verrà realizzata da Vlaovic. Quando la squadra di Mourinho invece ha più spazio per andare nella metà campo avversaria, la Juventus è davvero ben compatta con i tre centrocampisti che rimangono molto stretti, soprattutto sulla destra era più ad oscurare Pellegrini, mentre De Sciglio può allargarsi maggiormente su Spinazzola, mentre a sinistra spesso Miretti esce in pressione centralmente e Costic è bravo a rientrare e ad accentrarsi in modo da intercettare i passaggi su Dybala centralmente, come avviene proprio al sedicesimo della partita. Inoltre le rotture di difensori anche con Bari centro-basso sono sempre ben coordinate e ordinate, qua Costic, Miretti, Bremer e Sandro tutti orientati sui propri riferimenti. Una soluzione che poteva avere la Roma per mettere in difficoltà la Juventus era ruotare le posizioni dei giocatori, come qua con Dybala e Karsdorp. Infatti c'era possibilità per il numero 21 di ricevere il pallone, ma questa cosa nel primo tempo è avvenuta solo in questa situazione al trentaseiesimo. Quindi nella seconda frazione di gioco Mourinho ha effettuato delle sostituzioni con Esha Rawi al posto di Mancini e Zalewski al posto di Spinazzola trasformando la sua squadra in un 4-2-3-1. Questo non ha dato benefici nella fase di pressione in quanto Abram doveva sempre gestire i due centrali mentre Dybala si trovava in mezzo a Rabiot e Locatelli, mentre in fase di possesso invece la Roma è più ordinata e riesce di più a rimanere nella metà campo avversaria. Sempre in queste situazioni con Bari centro-basso la Juventus è rimasta ordinata e ha subito pochi tiri in porta. Ma al 69esimo, in seguito ad un calcio d'angolo, la Roma riesce a segnare il gol del pareggio. Infatti la Juventus in questa partita ha difeso a zona con due giocatori a uomo, su Abram e i Bagnez. Il pallone arriva sul secondo palo, Alexandro, che era in marcatura a zona, viene superato, Dybala con una semirovesciata riesce a rimettere il pallone in mezzo e poi Abram con la sua struttura fisica sovrasta De Sciglio e riesce a segnare il gol del pareggio. A questo punto le due squadre cambiano ancora faccia con Mourinho che inserisce con Bulla per Dybala tornando a giocare con una difesa a tre mentre Allegri sceglie di inserire Milik e McKennie oltre a Zaccaria in trattò per l'infortunio per Rabiot andando così a sistemarsi con un 4-4-2 con Milik e Vlaovic al centro dell'attacco. Comunque i bianconeri non riescono a creare occasioni pericolose in quanto la Roma è ben compatta difensivamente e la partita finisce 1-1. Dal mio punto di vista Allegri ha preparato la partita in modo perfetto riuscendo a sfruttare le difficoltà della Roma in pressione in tutte le parti del campo cercando e sfruttando soprattutto gli spazi che si sono venuti a creare sia in zona esterna che in zona centrale che fra le linee. Insomma è stata una strategia di gara veramente azzeccata quella dei bianconeri mentre la Roma soprattutto nel primo tempo ha avuto difficoltà nella pressione e nell'aggressività con cui portarla mentre nel secondo tempo la squadra era un po' più coordinata ma comunque sempre con difficoltà anche nella fase di possesso palla. Fatemi sapere voi cosa ne pensate della partita e noi ci vediamo in una prossima analisi tattica.